Non dimenticarti di iscriverti a questo canale e di attivare la campanellina per non perderti nessuno dei nostri contenuti a tema One Piece, mi raccomando. Questo è il classico capitolo che la community definirebbe di transizione, ovvero un capitolo carino, ok, per carità, con tutti gli scontri, che però continua semplicemente quello che abbiamo visto nello scorso e potrebbe semplicemente aprire delle cose che vedremo in futuro. Niente di eclatante, ma alla fine One Piece comunque in un modo o nell'altro ci lascia sempre dello spazio di manovra per parlarne, per discutere, e oggi facciamo proprio questo, parliamo del capitolo 1093 di One Piece. Ciao a tutti ragazzi, io sono Marra, bentornati sul mio canale, oggi siamo qui appunto per fare il nostro commento al capitolo. Come avete notato è uscito un giorno dopo, ormai solitamente i capitoli escono già il mercoledì, quindi io il video lo faccio il giovedì, oggi invece cambia un po' tutto perché il video è uscito un po', cioè il capitolo è uscito un po' dopo, ma non importa, eccoci qua, sapete che noi ci adattiamo. Direi di iniziare a parlare di questo capitolo. Prima però vi devo assolutamente dire una cosa, che ormai era un must anzi del nostro canale, ora lo dico molto molto meno, che solo il 26,6% di chi guarda i video è iscritto ragazzi, cioè questa percentuale si è abbassata tantissimo, un po' colpa del live action, un po' colpa del fatto che il canale sta crescendo e quindi sta toccando anche tante persone che di fatto One Piece prima non lo toccavano evidentemente. Quindi ragazzi, se non siete ancora iscritti, mannaggia voi, iscrivetevi. Questa percentuale una volta era al 50, poi ho smesso di dire le cose e infatti si è abbassata. Io direi che possiamo cominciare, vi ricordo anche che al raggiungimento di 1000 like entro 24 ore, domani uscirà anche il commento ai vostri commenti, di fatto è uscito un post su Instagram in cui vi chiedo cosa ne pensate del capitolo e facciamo il commento ai vostri commenti che esce sempre il giorno dopo, quindi guardate anche questo. Direi che possiamo iniziare veramente questa volta e il capitolo si apre con Luffy gigante. Luffy gigante nella sua forma in Gear 5 ovviamente e come vi ho anticipato questo capitolo è letteralmente il continuo di quello precedente, quindi non c'è un grandissimo stacco. Vediamo che Luffy ha in mano Kizaru come se fosse veramente un giocattolo, lo guarda e inizia a farlo roteare. Una cosa che molti hanno notato, che mi fanno notare anche nei commenti, tipo ma perché Kizaru non ha gli occhi che escono fuori dalle orbite? Perché quegli occhi che fanno così, certo, sono effetto del frutto di Luffy, ma devi essere stupito, devi essere anche spaventato un pochettino. Kizaru invece non gliene frega niente, ma anche in sto capitolo che vede un gigante che lo fa roteare e poi appunto lo lancia, oh non gliene frega niente, anzi Kizaru dice, beh, fai piano eh, cioè cosa fai? Fai piano però molto, un po' da meno freghista e questo è anche una caratteristica di Kizaru che a noi piace proprio perché questo frutto della super velocità, perché è un frutto della luce, mischiato con un atteggiamento del genere, secondo me lo rende un personaggio proprio doc, bellissimo. Luffy quindi, come vi ho detto, lo lancia e vediamo proprio che Luffy si stende dalle risate, muore dalle risate perché appunto è riuscito a lanciare l'ammiraglio. Invece, mentre Luffy ride ovviamente, abbiamo Vegapunk, Atlas e tutto il team che si trovava dentro il laboratorio che dicono, ok, ora che non c'è l'ammiraglio è il tempo di agire. Atlas e Vegapunk vogliono scendere nella parte, diciamo, bassa del laboratorio, la parte di fabbrica, di fabbricazione, perché vogliono cogliere l'occasione per riprendere il controllo dei pacifista. Quello che dice Vegapunk è anche eclatante, secondo me, ovvero chi ha il controllo dei pacifista riesce a vincere questa guerra. Tra l'altro Vegapunk dice che nessuno sull'isola, almeno, ha un grado di importanza, di gerarchia per quanto riguarda gli ordini dei pacifista, più alto di Vegapunk e quindi devono assolutamente scendere. Tra l'altro vediamo che Vegapunk contatta anche Frankie e Lilith, che se vi ricordate erano rimasti, diciamo, nei pressi della Sunny dopo che Bonnie è stata scaraventata via. Qua Vegapunk scopre anche quello che è successo a Bonnie, quindi che è stata sbalzata via. E tra l'altro in realtà ci dà anche l'informazione importante, ovvero che Bonnie è ancora viva e si sorprendono che Bonnie sia riuscita a sopravvivere non solo alla caduta, ma anche alla barriera, perché Bonnie, vi ricordo, dopo il calcio di Kizaru, ha attraversato anche la bandieriera. Questo ci conferma comunque che Bonnie non solo ha un frutto che è veramente forte, perché, diciamocelo, quello è un frutto forte, a meno che l'avversario non abbia l'aki per annullare gli effetti. Ma è anche forte fisicamente, perché Bonnie, poi tra l'altro, ha preso pure un calcio da Kizaru in faccia, quindi, cioè, Bonnie, molto molto forte. Tra l'altro, all'umacofono c'è anche Sanji, che si trova con Jimbe, ed erano nel secondo piano, stavano accumulando dei materiali che servivano a Vegapunk prima di partire. E Sanji dice che vuole partecipare anche lui alla missione per recuperare Bonnie. La nostra attenzione si sposta nella parte bassa dell'isola, nello strato dove si fabbrica, tra l'altro, io lo chiamo così da adesso in poi, e vediamo che ci sono vari marines che sono stati trasformati in vecchietti e in ragazzini. In più scopriamo, anzi, anzi, scoprono i marines, che Sentomaru si trova lì, però è steso a terra ed è tutto ustionato. E vediamo che Bonnie è presente, ovviamente nascosta, e ripensa a Sentomaru, perché vediamo, con un piccolissimo flashback, che mentre stava cadendo dalla parte alta di Egghead, Sentomaru l'ha presa al volo, quindi praticamente l'ha salvata. Poi, evidentemente, Sentomaru si è riaccasciato al suolo, perché in questo momento è svenuto per terra. Quindi si è rialzato, certo, ma è ancora per terra, quindi non si sa ancora bene. Comunque, il fatto che Oda non l'abbia fatto morire così platalmente, anzi, ma l'abbia già fatto rialzare, secondo me indica che, prima o poi, Sentomaru si rialza e qualcosa la fa per davvero. Tra l'altro, vediamo anche Bonnie, che nella sua ultima scena qui, che gli è dedicata in questo capitolo, pensa a che cosa fare. Non sa assolutamente cosa fare se nascondersi o continuare a combattere o aspettare che i marines se ne vadano. È ancora, diciamo, nel dubbio. E la nostra attenzione si sposta nuovamente nello strato del laboratorio, in particolare si sposta su di Luchi, che in questo momento è nella sua forma risvegliata e sta combattendo, ovviamente, contro Zoro. Vediamo anche nella prima immagine di questo scontro che Luffy gli chiede a Zoro, ma per caso vuoi una mano? E Zoro gli dice, no, tu semplicemente concentrati su Kizaru e vediamo che sia Zoro che Luchi, comunque, sono un po' affannati che stanno combattendo, diciamo, ad armi pari. Zoro dice, se questo è il meglio che può fare, allora non è una cosa che tocca al capitano. Ovviamente si riferisce a Luchi, è un po' una presa in giro. E Luchi, tra l'altro, dice una cosa fra infuriari fan, infatti dice, ah no, va bene, allora io credo che la testa del numero due di un imperatore è comunque un premio molto interessante, molto ambito, che comunque è decente, che mi va benissimo, anzi, un premio di consolazione, letteralmente, dice Luchi. E vabbè, questo scontro, insomma, diciamo che lo vediamo per qualche vignetta, ma niente di che, non so, attenzione, si sposta nuovamente verso Kizaru, che noi vediamo che praticamente sta volando via da Egghead per farvi capire quello che vi dicevo all'inizio, ovvero del fatto che è proprio disinteressato a tutto, Kizaru è con le braccia concerte, mentre sta volando. A un certo punto vede che si sta avvicinando all'acqua di mare, dice, ah, forse è il momento di tornare, e difatti, in un men che non si dica, torna su Egghead e questa volta torna davanti a Luffy con dei cloni di luce che si pongono davanti al nostro capitano. In particolare sono questi cloni, questi ologrammi, Luffy li chiama addirittura Ololo, come fosse il frutto di Perona, e Luffy, utilizzando una sua abilità che è molto simile al classico whip di Luffy, però ovviamente con il prefisso Dawn, riesce a eliminare tutti gli ologrammi e dice, ah, allora devo aver colpito anche il vero Kizaru, perché Kizaru non c'è, solo che poi si gira, vediamo i suoi occhi che escono di nuovo fuori dalle orbite, perché? Perché Kizaru, mentre Luffy era distratto, è sceso sotto e ora sta tenendo per il collo Usopp, però si rende conto che il vecchio Vegapunk non si trova lì, e quindi evidentemente Vegapunk è scappato. Quello che vediamo alla scena dopo è proprio Vegapunk, che sopra un manchino che si chiama Vegatunk 8 insieme ad Atlas, sta scendendo per il tubo che abbiamo già visto in passato su Eggere, tra l'altro sopra questo tank si piazza anche Sanji, in realtà letteralmente si lancia sopra. E vediamo Vegapunk deciso che dice, non posso lasciare che una ragazzina come Bonney, una piccola ragazza come Bonney, venga uccisa. E qui già nel gruppo Telegram ho letto varie teorie sul fatto che Bonney potrebbe essere in realtà una bambina che utilizza il suo frutto per sembrare una ragazza. Ecco, io non entro dentro questo discorso, perché secondo me ci sono talmente troppe poche informazioni che non ha senso parlarne. Questa teoria sta già girando da quando abbiamo iniziato la saga di Egghead, perché per esempio all'inizio quando vediamo Bonney, che si trova in mare tra l'altro, quindi il suo frutto non doveva funzionare in quel momento, vi parlo ovviamente della parte in cui Bonney si trova nel mulinello, vediamo che è una ragazzina, ok? Non è nella forma in cui siamo abituati a vederla, tra virgolette. Comunque Kizaru riesce a individuare il tank di Vegapunk e spara un raggio verso di loro. E Luffy ovviamente si mette in mezzo per pararlo. Vediamo che Luffy inizia a emettere luce dopo aver preso questo colpo e soffre parecchio perché sembra essere molto molto doloroso. Comunque vediamo che i Marines sanno che Vegapunk sta abbandonando la parte alta del laboratorio e vediamo che Atlas ordina tutti i pacifista di eliminare ogni singolo Marine sull'isola. E il capitolo finisce non qui, finisce l'immagine di Saturn che è molto pensieroso, ovviamente con la notizia che nel prossimo capitolo purtroppo è in pausa. Però questo finale secondo me ci dice moltissimo. Certo da una parte ora, come diceva Vegapunk, chi ha il pacifista sotto il suo controllo può vincere la battaglia, anzi secondo Vegapunk chi ha il pacifista vince di fatto la battaglia e può anche essere per carità. Però perché dico che in realtà questo finale ci dice molto di più? Perché attenzione, proprio mentre noi sentiamo questo ordine di Vegapunk vediamo la faccia di Saturn. È come se Yoda ci stesse dicendo che ora il Gorosei ha una scusa per scendere in campo e ovviamente la scusa base per il Gorosei sarebbe proprio portare dalla loro parte i pacifista eventualmente anche i serafini. Anche perché i serafini ragazzi così tanto importanti ma sono ancora rinchiusi in quelle bolle ma li vedremo prima o poi, chi lo sa. Ricordiamo che adesso anche un pochettino l'ordine, gli schieramenti sono un pochettino cambiati perché adesso Vegapunk, Atlas, Sanji si trovano nella parte bassa e un personaggio come Sanji che cambia posizione secondo me è una cosa importante quindi vedremo questa cosa dove ci porta. Secondo me l'ultima vignetta parla chiaro. Adesso Saturn ha un motivo per scendere in campo. Prima no di fatto perché Saturn è stato sempre rappresentato come questo politico super cauto, talmente cauto che abbiamo visto quando era sulla nave non poteva neanche mangiare un po' di carne prima doveva farla assaggiare a qualcun altro per vedere se era stata avvelenata. Proprio il fatto di essere cauto mi ha fatto sempre pensare a Saturn come qualcuno che avrebbe preso un po' di tempo prima di scendere di fatto ad Egghead ci sarebbe dovuto essere proprio una motivazione e ora la motivazione c'è. Ecco, questa secondo me è la cosa più interessante che ci dona questo capitolo ragionare su quello che farà Saturn e di fatti vorrei fare proprio un approfondimento sulle varie cose che potrebbe fare Saturn tutto quello che sappiamo e quello che potrebbe fare. Io ragazzi direi che possiamo concludere questo video allora ovviamente è un po' più corto dei soliti commenti dei capitoli ma perché? Perché non abbiamo così tante informazioni però sempre interessante vedere Luffy combattere e anche Kizaru adesso. Comunque ragazzi io vi saluto, vi aspetto domani con i commenti ai vostri commenti poi un bel approfondimento su Saturn che ci sta e noi ci vediamo con altri contenuti sempre a tema One Piece mi raccomando fate i bravi, noi ci vediamo, ciao a tutti!